Salve da Marco Calapro, per conto di Cello Costo, stiamo oggi valutando una compagnia low cost in Colombia, la compagnia è la Fast Company, però il marchio della compagnia è Viva Colombia, la compagnia è effettivamente una compagnia low cost, le strategie e le tecniche di vendita sono quindi dello costo, riuscendo a fare la prenotazione con un buon anticipo si riesce a ottenere veramente un buon prezzo, la compagnia utilizza Airbus, quello che stiamo vedendo è un A320, quindi aeroplani di produzione europea che abbiamo visto normalmente hanno una vita media leggermente inferiore ai 10 anni o di poco superiore, quindi comunque stiamo parlando di veicoli sicuramente di generazione attuale. L'unica cosa che vogliamo ricordare è che la compagnia si amministra molto bene dalla piazza, dalla città di Medellin e sono meno servite invece altre città della Colombia. Grazie per ascoltare i video di CelloCosto.it e arrivederci al prossimo video.